Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con vrc9 proseguiamo da dove ci siamo lasciati più o meno da dove ci siamo lasciati perché in realtà Aspettate un attimo qua devo si era impallato il settaggio forse si fa vedere ok andiamo a vedere il calendario vabbè riposo lì ho fatto direttamente l'evento condizioni estreme fallito miseramente perché c'era qualcosa che secondo me non quadrava non quadrava a livello di guidabilità perché l'auto non andava Comunque mettiamo il nostro agente questi dobbiamo ancora sbloccare questa professione qui cosa abbiamo obiettivi allora obiettivo mancato treventi condizioni estreme non ce l'abbiamo fatto vabbè Quindi ci viene in quattro settimane proviamo signori si va in svezia daglie daglie con la nostra fiestina pronti pronti subito sulla neve come se non ci fossero domani Come detto ragazzi voi fatemi sentire il vostro supporto che se vedo che siete partecipi qua andiamo a cannone Dai Qua in svezia comunque andiamo a cannone indipendentemente da tutto Senza corte in cima 30 Sinistra piena chiude 5 50 Destra 5 100 Destra 6 in cima 40 Sinistra 4 E destra 6 50 attenzione plena Pelo 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 Destra 3 corta in sinistra 2 corta E sinistra 4 lunga stringe in destra 4 apre su cima 50 Sinistra 6 corta e 100 Bene così Gino bene così Destra 5 chiude su cima Destra 4 corta non tagliare in sinistra piena in salta forse su cima 50 Attenzione freno pesante secca sinistra taglia poco E destra 5 lunga 60 Di fino di fino ma un po' lunghi Dobbiamo cercare di non distruggere l'auto eventualmente E destra 5 50 Che sennò diventa tutto più difficile alla lunga Stere 4 da apre Attenzione destra 6 chiude 3 50 Sinistra 6 su cima 30 Destra 5 attenzione chiude 3 30 Sinistra 5 e destra 5 su cima Attenzione chiude 3 In sinistra 4 60 Sinistra 6 lunga su cima 50 Sento un elicottero che ci insegue Damos è E destra 5 tieni Sinistra 3 apre in conca 50 Sinistra 4 lunga 30 E destra 3 chiude E destra 4 apre 70 Sinistra piena stringe E destra 6 corta Sinistra 4 apre in destra 4 70 Attenzione freno pesante Per secca sinistra e destra piena 50 Con quale finezza signore qui in Svezia Un po' più easy anche la tappa però Destra 5 50 Sinistra 4 stringi Prena per destra 1 non tagliare 30 Destra 5 chiude 4 Stringi in sinistra 4 lunga Stringi 50 Destra 4 in attenzione sinistra 4 chiude 1 Non tagliare Destra sinistra 6 e destra 3 200 Mi ha detto non tagliare però eh Effettivamente noi ci proviamo sempre Sprezzanti delle indicazioni però Attenzione salta 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 Mamma mia stiamo andando a cannone qui Vabbè ci sono pochi ostacoli per il momento Destra 50 Attenzione freno pesante Secca sinistra taglia 60 Sinistra 5 chiude 4 corta 50 Sinistra 5 su cima in destra 4 chiude 60 E destra 5 30 Destra 4 in curva 30 Destra 4 apri in sinistra 3 100 Mamma mia Sto parlando un po' meno signori per rimanere concentrato qui e cercare di fare del nostro meglio E abbiamo fatto questa tappa veramente molto bene guarda l'auto sembra quasi immacolata e abbiamo dato 22 secondi agli inseguitori Mamma mia al secondo in questo caso Allora vai che la cosa fondamentale come detto è quella di non scassare l'auto così almeno proviamo ad arrivare con un certo stile Ma soprattutto senza problemi meccanici eccessivi che sono anche quello un grosso un grosso problema Vai Sinistra 3 corta in destra 4 chiude 3 corta Attenzione qua è notturna In sinistra 5 corta 50 Destra 5 lunga chiude 3 In sinistra 3 apri 50 Destra 5 chiude 3 corta in sinistra 5 Sinistra piena su cima chiude Tieni destra 4 E destra 5 non tagliare in sinistra 4 su cima 50 Brandi rischi E sinistra 5 40 Pericolo freno pesante per secca sinistra E sinistra 4 chiude corta in curve 200 Attenzione prena cima in destra piena e sinistra 1 30 Vabbè non fa niente una toccatina un guardrail ci sta E' onesto Attenzione prena destra 3 non tagliare chiude in cima stringi in destra 4 e sinistra 4 Uh fiancata piena proprio qua ci siamo sfondati contro l'alberello In destra 4 apri 50 Che cazzo è la mamma puttana Sprena destra 5 chiude 2 corta in sinistra 4 lunga Per non è di francesismo ma qui signori Cioè stiamo a rimanere a tutto Destra 5 chiude lunga stringi In sinistra 4 corta 30 Sinistra piena 30 Sinistra 5 e cima in destra 5 chiude 3 Quella E sinistra 3 lunga E attenzione prena destra 5 lunga chiude secca destra taglia Destra piena e sinistra 5 Piano piano non è successo niente vai vai così tranquillo In destra piena 50 Destra 3 in sinistra 4 apri E sinistra 3 in destra 4 apri molto lunga 30 E attenzione destra 3 corta in sinistra 3 apri In curve Sinistra 3 corta in destra piena chiude 4 non tagliare In sinistra 3 corta in destra 4 In sinistra 5 lunga apri E attenzione destra 5 chiude 50 Destra 5 60 Sinistra 4 in destra 3 Mamma mia meno male che c'era del nevischio che ci ha rallentato Sinistra 3 corta l'arco e sinistra 6 per arrivo Vabbè dai tutto sommato abbiamo perso un pochino in alcuni frangenti Ma in generale è andata bene dai in generale è andata bene Non abbiamo distrutto neanche eccessivamente l'auto Abbiamo guadagnato altri 18 secondi in modo clamoroso Bene così bene così andiamo a riparare l'auto Vediamo cosa è perché qua come detto una volta che inizia a far pratica con l'auto Magari miglioriamo anche noi Per carità il rally di Svezia è più semplice rispetto ad altri Perché insomma aspettiamo anche di arrivare ad altri rally Dove effettivamente torneremo a disintegrare un po' tutto Come giusto che sia Perché con i rally mai direi mai Cioè basta un errore e ti sei giocato tutto Un errore un'uscita di pista Rompi la macchina perdi la marea di secondi Penalità Un po' lunghino Incrocio in sottoponte in salta 30 Sinistra 4 corta e destra 3 non tagliare 70 E sinistra 6 chiude 3 corta non tagliare E sinistra 4 molto lunga chiude In sinistra 3 molto lunga Apre e destra piena Ma se incanta un sacco Quando facciamo Ste piste o sbaglio Vedo che Il baricentro è un po' ballerino in questi casi Sarà anche l'inclinazione della pista Però Incrocio secca sinistra Palla esterna 40 Salta grande Su ponte 30 Preciso preciso Va bene E qua l'ho presa troppo veloce E sinistra piena 30 Destra 5 In sinistra 5 30 Sinistra 3 non tagliare Molto lunga 200 e arrivo Bene così comunque Bene così dai Ok ok Alla grande qui Dai che L'ultima tappa abbiamo un buon vantaggio Un ottimo vantaggio che dobbiamo sfruttare Assolutamente Quando ci ricapita Quando ci ricapita Dai eh 50 Sinistra piena Suddosso E destra 6 Largo In destra 3 Corta Sinistra 3 In destra 4 Centro Sinistra piena 50 E sinistra piena E destra 5 Media Su cima Oppala Un po' veloci Un po' veloci qui Un po' di rischi In destra 4 Stringe 50 E destra piena Chiude 4 In sinistra 3 Corta Apre E sinistra 4 In destra 3 Apre In destra 4 Stringi Piano 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 Vai Gino In sinistra 3 Centro Fatti valere Fai vedere che non sei solo un distruttore di auto Sinistra 6 Anche un pennellatore di finezza Più o meno di finezza E attenzione destra Piena Frena Per secca sinistra Taglia molto Apre Guardiamo Il capello In destra 3 E sinistra 3 In cima E destra 6 Molto lunga Chiude 4 Corta Via In sinistra 5 Apre 30 Destra 3 Apre In sinistra 2 Corta Apre 50 E sinistra 5 Chiude Frena In destra 2 Corta Apre In destra 4 Corta E sinistra 6 Indosso In sinistra 3 100 E altre due indicazioni Ce le mettiamo Sinistra 5 Media Dossi In destra 1 Intorno alla roccia In sinistra piena 200 Su Dossi Attenzione Destra 4 E frena Per secca Destra 50 Ballona 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 Destra piena In sinistra 5 Chiude 50 Albero esterno Destra 4 Corta In sinistra 5 Media In destra 5 Chiude Su cima Salta E sinistra 4 100 Cima In destra 3 In sinistra 4 Apre 50 Sinistra 5 30 Destra 4 Corta Stringe In sinistra 4 Stringi In destra 3 Per arrivo Va bene Siamo arrivati Siamo arrivati Non è successo niente Non so se mi ha dato penalità Per questa cosa Sì 5 secondi 8 2 Va bene uguale Signori abbiamo fatto un grandissimo rally Qui in Svezia Bravi tutti Bene così Ottimo Ottimo Al momento Vabbè come detto Sempre difficoltà 103 Poi vediamo magari se ritornerà a 105 Però insomma Ci dobbiamo organizzare un attimino con la situazione Comunque il rally di Svezia è uno di quelli un po' più fattibili Perché come avete visto è abbastanza largo Se esci non disintegri tutto perché spesso c'è la neve Quindi diciamo che è molto più fattibile rispetto ad altri E quindi noi sfruttiamo questa cosa Qua possiamo antiforatura Usura delle gomme asfalto Ok Ci starebbe anche Io vado tutto di resistenza Come dicevo ragazzi Perché resistenza a freno Resistenza a gamma Manutenzione migliorata Aumentare l'infini Vai Ok Questa è la cosa fondamentale Poi piano piano andiamo a vedere anche le altre cose Vediamo per email i danni che abbiamo fatto Questa volta 6.400 Un pochino meno Ok Poi si va in Messico Ci hanno molto colpito Ma che vuole La Volkswagen ci sta Tampinando comunque Alcuni della squadra Tiene un massimo livello di affaticamento Va bene Buttali nelle riserve E fa come te pare Questa è la gente Ma come si fa a stancare la gente Che non fa niente Io non riesco a capire questa cosa Va bene ragazzuoli Comunque vado a vedere cosa possiamo fare successivamente Condizioni estreme Cara storica Lancia Eh Anche quella ci sta Bella lì Ti seleziono anche un po' di riposo Visto che stanno stanchini Noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento Mi raccomando che è sempre Like Condivisioni Secondo canale Sito live Instagram Eccetera Eccetera Ci vediamo alla prossima ragazzuoli Un saluto a tutti da Queltaleale Ciao a tutti Grazie a tutti.